Grazie a tutti 25-10 Euro Vorrei portare alcuni miei amici che vengono dal nord Italia a cena questa sera e mi avevano chiesto una cena a base di prodotti tipici catanesi, soprattutto specialità marinare loro ad esempio mi dicevano che non avevano mai provato i ricci Abbiamo lagli spaghetti con i ricci? Naturalmente è tutto pescato locale, giusto? Sì, sì, tutto locale e tutto fresco Ricci, proprio il ricci intero no, non lo abbiamo Però possiamo fare la pasta Poi il ricci intero locale, quindi qualcosa la possiamo fare Sì, ci dovrebbe essere, ci dovrebbe arrivare una volta nel momento e nell'altro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti